musica 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 al festival dell'oriente oggi vi porterò con me in questa giornata particolare stiamo cercando posto perché è pienissimo, è pienissimo ragazzi ciao amici ciao amici che bel cielo azzurro musica musica Sì. Non so se vuoi lezioni. Non so se vuoi lezioni. Non ci sono lezioni che vi essere risolto. Non ci sono lezioni che ci sono. Guarda che bello che si trova. Quale ti piace? La cosa è bella? La rosa blu. Una rosa su tua pelle, e tu? C'è il muscivario. Cos'è un castorio? Che sfondo! Sono Mulan! Abbiamo preso due incendi, uno alla lavanda e uno al giratore. Non mi sembra più. Ho il braccialettino per visitare gli altri padiglioni, perché non c'è solo la festa dell'Oriente, ma ci sono tanti altri eventi come l'Holy Fusion. Quindi tantissime persone qui sono piene di colori in faccia, addosso, quindi è davvero un evento molto molto colorato originale. E' sicuro che il sangue è grande e più di un po' di un po' di un po' di un po'. Quindi, l'Italia non sarebbe facile, diremmi, diremmi. No, in Italia, no! Non posso, non vogliono fare per andare a tempo in Milano, ci sono un po' di 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 un po'. ho fatto tutto a mano ragazzi guardate che bravo ciao mi sono scattata la gamba massaggio, massaggio, strecci che massaggio guarda che eri bucato però io ero anche io volentieri quasi quasi un polenzialino non ce la farei non ce la farei non ce la farei quella è l'ametista quella viola è l'ametista ho comprato questa è l'ametista ed è la pietra del segno del sagittario ed è una collanina quindi potrò anche indossarla la fonda del cioccolato è la vita, questa è la vita ma è un bicchierino? no, non ce ne sono per tutti i gusti perché c'è anche quella gelola che mi piace è la prima volta che mi piace è la prima volta che mi piace è la prima volta che mi piace Questo sulla mano sinistra l'ho fatto con i glitter argentati, questo qui l'ho fatto con i glitter dorati e farò prendere male mia mamma quando tornero a casa perché dirò che sono veri. Ma ma dov'è la tipa? Stiamo cercando la ragazza dell'ennè perché mi deve sbruzzare sopra i peccati. Questa è stata la nostra giornata al Festival dell'Oriente, se questo video vi è piaciuto lasciate un pollicino in su, iscrivetevi al canale e lasciate un commentino, mi raccomando io vi aspetto, un bacino, ciao!